Ciao ragazzi, come va? Sono Riccardo di Ultimate Success Formula e sono specializzato nel creare strategie e metodi per generare entrate passive, automatiche e ricorrenti. Allora, siamo qui al tramonto, io e Yasmina, stiamo guardando il tramonto, bellissimo, e approfitto per fare un veloce video, ok, prima che vi dimentichi, su una nuova piattaforma che mi è stata presentata in questi ultimi due o tre giorni. La piattaforma si chiama bullrun.io, quindi bullrun.io, e quindi volevo fare questo veloce video per darvi un po' la mia opinione su quelli che sono i primi dati che ho in qualche modo recuperato. Seguirà un video di analisi approfondita seguendo quelli che sono i cinque punti per determinare se una piattaforma, se un asset è sostenibile, oltre che profittevole, ma soprattutto è destinato a durare perché si basa su dei principi legati a un profitto sano. Avevo già fatto questo video qualche mese fa, mi sono i cinque punti per determinare appunto la profittabilità e la durata di un'azienda, di una piattaforma, di un asset, e quindi vi consiglio di guardarlo perché sono i cinque punti base dai quali partire per capire se di base dove state mettendo il vostro denaro andrà in qualche modo a durare perché si sostiene su delle basi solide oppure è l'ennesima piattaforma truffa. Ora faccio un disclaimer iniziale perché negli ultimi giorni sono stati commentati alcuni miei video riguardo all'annuncio che ho fatto, agli annunci che ho fatto sulle morti di alcune piattaforme truffa che di base sono scappate con i soldi e quindi l'accusa più frequente è stata quella che secondo alcuni io di base godevo del fatto che queste piattaforme avevano scammato, tra virgolette, no? Quindi ci tenevo a dire, ci tenevo a replicare a questa cosa perché è esattamente il contrario, cioè non solo non godo nel vedere piattaforme che scammano, ma in qualche modo mi dispiace moltissimo di questa cosa. Questo per vari motivi, innanzitutto perché so che in Italia soprattutto non c'è una grande educazione per quanto riguarda questo mondo, quindi il mondo delle entrate passive viene visto in maniera un po' mistica, non si capisce bene e quindi non c'è tanta educazione a riguardo, ma soprattutto perché in qualche modo queste piattaforme che saltano per aria vanno a minare, vanno a buttare merda, passatemi il termine, su persone come me che invece vogliono educare le persone nell'imparare a fare le cose nel modo corretto. Quindi fatto questo disclaimer, chiaramente voi siete liberi di commentare, voi siete liberi di dire ciò che volete, però sappiate che noi andiamo avanti per la nostra strada, ma soprattutto sappiate che quando una piattaforma salta mi dispiace perché so quelle che sono le dinamiche che poi si vanno a generare. Ora io consiglio sempre di fare le cose nel modo giusto, quindi prima di tutto studiare, prendere le informazioni, creare i propri obiettivi e fare in modo di creare una strategia che sia coerente con questi obiettivi e andare a mettere i vostri soldi su aziende, su asset che sono basati su fondamenta solide. Quindi detto ciò parliamo velocemente di Bullrun, questa nuova piattaforma perché non si tratta di azienda ma si tratta di una piattaforma. Mi scuseranno quelli che me l'hanno proposta, mi scuseranno quelli che in qualche modo credono in questa realtà, io devo dirvi che non ci credo minimamente, ho già fatto una preanalisi, ripeto seguirà un video dettagliato. Voi siete liberi ovviamente di mettere i vostri soldi dove volete, anche se dal mio punto di vista bisognerebbe guadagnare paradossalmente un pochino meno ma essere sicuri di proteggere come prima cosa il vostro denaro. Quindi prima proteggerlo poi farlo crescere. In virtù di questo Bullrun non è la realtà corretta per farlo, ok? Seguirà un video dettagliato, ripeto, ma ho la netta impressione che sia l'ennesima piattaforma scam. Di base quello che loro hanno fatto è prendere Mind Capital, che sta avendo delle difficoltà, prendere Mind Capital, replicarla e andare ad aggiungere furbamente una serie di vantaggi che Mind Capital non aveva, perché non era stata capace di creare. Quindi il fatto che il controvalore viene fatto con un token in euro, il fatto che in qualche modo garantiscono, secondo quello che dicono, una percentuale più o meno fissa del 17%. E poi girano voci che ci siano in mezzo quelli di Mind Capital, che quindi ci sia di mezzo Gonzalo. Insomma, ne ho sentite di tutti i colori. Sinceramente a me sembra l'ennesima piattaforma truffa, destinata a rimanere qualche mese e poi sparire, lasciandovi con praticamente un pugno di mosche in mano, fondamentalmente. E quindi ragazzi, io non vi consiglio, se volete creare una strategia che vi faccia dormire la notte e che sia di lungo periodo, di mettere i vostri soldi lì. Chiaramente se uno vuole entrare e ha sempre quella metodologia di fare il mordi e fuggi, quindi di rincorrere dietro nuove piattaforme, mettere i soldi, pregare che poi si riesca a ritirare, eccetera, valutate questa piattaforma. Seguirà un'analisi più approfondita. Nel frattempo quello che vi posso consigliare è di mettere i soldi su asset sicuri, su asset che si basino su fondamenta stabili, serie e sostenibili. Se volete capire di più su come avere successo all'interno di questo mondo, capire le basi, capire le fondamenta, capire effettivamente come approcciare al mondo delle entrate passive, automatiche e ricorrenti, ho preparato per voi un mini percorso gratuito che è una parte, una fetta del percorso completo, la formula definitiva per il successo. Vi lascio il link in descrizione, potete scaricarlo gratuitamente, potete visionarlo e potete iniziare ad approcciare a questo mondo in una maniera seria, capendo che è un business e non è un gioco. A presto!